me ne stavo lì a lavorare al mio libro sui pericoli delle nuvole scendi dalle nubi si è un titolo provvisorio ed ecco che guardo i dati e vedo i giri vorticare in balanza di guerra e poi accade non riuscivo davvero a crederci di fronte a me c'era quell'orribile scorpio criminale quello che cerca sempre di conquistare skylights è leggermente ionico un po' sempre un po' sempre un po' sempre Grazie per aver attivato la sequenza di avvio dei conquistati all'antemia. I miei sensori stanno concependo un'insaziabile brama di potenza. Salve il nuovo padrone. Salve il nuovo padrone.